Ben ritrovati all'appuntamento settimanale di Diocesi Informa con le notizie a cura dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Venerdì 29 aprile è il secondo appuntamento di formazione per i docenti di religione cattolica dalle ore 16.30 alle 18.30 presso l'aulamagna dell'Istituto Superiore Monsignor Bello sul tema orientamento sessuale e morale cristiana. Interverrà Don Aristide Fumagalli. Nella stessa giornata alle ore 19 l'Ufficio Diocesano per la Cateche si promuove il primo dei due incontri del Laboratorio di Verifica di fine anno dal titolo Pandemia e Comunità quale forma possibile presso l'auditorium del Museo Diocesano a Molfetta. Sabato 30 aprile è il terzo appuntamento del Laboratorio Diocesano dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali rivolto agli operatori parrocchiali per la cultura e la comunicazione con l'ingegner Riccardo Petricca, professore presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni sul tema Ascoltarsi nella Chiesa, Sinodo e Comunicazione. Si terrà alle ore 16.30 presso il seminario Vescovine. In preparazione alla 59 giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che sarà celebrata domenica 8 maggio, il Centro Diocesano Vocazioni invita le comunità parrocchiali, in modo particolare adolescenti e giovani, alle veglie che si terranno nelle quattro città della diocesi secondo il calendario riportato sul sito diocesano. Ritornano a Molfetta i festeggiamenti per la Medona d'Utramaliz che sosterà nella parrocchia Santa Famiglia dal 3 all'11 maggio, giorno in cui rientrerà in processione presso la Basilica della Madonna dei Martiri, ricordando l'evento miracoloso del terremoto scampato nel 1560. Giovedì 4 maggio, alle ore 16, presso l'auditorium San Filippo Neri, appuntamento con esponenti dell'Università, del Tribunale Ecclesiastico e dell'Ordine degli Avvocati sul tema La riscoperta del futuro, la guerra e il futuro delle organizzazioni internazionali. Sul sito diocesano i dettagli. L'Osservatorio per la Legalità e per la Difesa del Bene Comune di Giovinazzo e Cercasi un Fineo on Lus, in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi, promuovono un percorso di incontri e di formazione dal titolo In Comune, in preparazione alle amministrative 2022, sul settimanale Dati, Temi e Relatori. E ora entriamo nel vivo del numero 18 del settimanale Luce e Vita di domenica 1 maggio. In apertura, una riflessione sull'importanza della risorsa umana nel mondo del lavoro per valorizzarne l'identità e la dignità. A pagina 2, Roberta Carlucci riporta sollecitazioni e ricordi personali di Monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, che ha presieduto la Santa Messa per il 29esimo anniversario del Dies Natalis di Don Tonino Bello, figura chiave nel suo ministero. A pagina 3, il resoconto del convegno dedicato alla venerabilità di Don Tonino, cui hanno partecipato i Vescovi Monsignor Cornacchi e Monsignor Angiuli, il professor Ulderico Parente, il dottor Giancarlo Piccini e il direttore del settimanale Luigi Sparapano, per ribadire l'importanza di non fare solo memoria, ma dare attuazione alle sue visioni profetiche. A pagina 4, riportiamo l'intervento della Cdalla a conclusione del convegno, i temi considerati prioritari, politica, giovani, ultimi, chiesa, pace. A pagina 5, l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice compie 150 anni. A Ruvo, la comunità è presente dal 1929 per l'intuizione della nobile donna Angela Fenicia. La comunità si dedica all'educazione come priorità per rispondere anche alle sollecitazioni della vita odierna ed è al servizio soprattutto di giovani e donne. Sulla stessa pagina, il programma degli eventi. A pagina 6, prima finestra sul Sinodo, attraverso una prima lettura di alcune delle relazioni prodotte dalle parrocchie, a cura di Gaetano De Bari. Sulla stessa pagina, la proposta di pellegrinaggio a Lourdes con i volontari dell'Unitalsi. A pagina 7, alcuni dei progetti realizzati grazie alla donazione dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un contributo gratuito che porta benefici per tanti. Infine, in ultima pagina, la rubrica di spiritualità a cura di Suor Valeria La Balestra è una lettera al direttore da parte di una lettrice, la professoressa Enza Summo. Grazie per l'attenzione e buona lettura.